Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori sul canale 17 di Fano TV. Come sempre tutte le mattine alle 7.30 ci ritroviamo insieme per leggere i giornali Il Carlino, Il Corriere e Il Messaggero, così come facciamo, diamo lo sguardo alle previsioni del tempo e poi al santo del giorno, vediamo allora il santo di oggi, Santa Scolastica il sole è sorto alle 7.15, tramonterà alle 5.30 del pomeriggio oggi ci aspetta una bella giornata di sole, vedete ancora, questa è la fotografia scattata dalla nostra webcam alle 7.30 su Fano, il Codma, non so se lo riconoscete il Codma di Rosciano, questa è la direzione, vedete al centro questo bel gioco di nuvole e di colori soprattutto Allora, la temperatura è di 3.30 alle 7.30 Allora, andiamo a vedere il tempo per la giornata di oggi con le previsioni oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso temperature minime a stazionare, le massime sono in aumento i venti di brezza tesa da nord, il mare sarà mosso con moto ondoso in diminuzione per domani, mercoledì 11 di febbraio, come vedete cielo sereno su tutta la regione per giovedì 12 invece, giovedì grasso, temperature senza variazione di rilievo il cielo sarà sereno o poco nuvoloso il fine settimana lieve peggioramento, più probabile, poi un probabile nuovo miglioramento quindi fine settimana forse con tempo incerto ma da confermare intanto il maltempo invece, il maltempo continua a tenere banco sui giornali con le notizie che riguardano i danni, i danni che ha provocato la mareggiata la fortissima mareggiata siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino danni per milioni, venerdì un summit, un incontro, servono i documenti le associazioni sollecitano gli operatori su un totale di 50 concessionari di spiaggia presenti lungo il litorale fanese sono circa una trentina gli operatori danneggiati dal maltempo 500 mila euro i danni per i soli concessionari di spiaggia a cui vanno aggiunti quelli legati alla distruzione del patrimonio pubblico dovrà ripristinarsi la passeggiata in Sassonia si dovrà risistemare tutta via Le Ruggeri poi nella pagina di Fano si parla anche dell'incontro delle visite che il Vescovo di Fano Trasarti sta effettuando in questi giorni tra i malati non solo cristiani, domani si celebra la giornata del malato blitz dei ladri all'istituto Olivetti rubati i tablet dei professori funzionavano da registri elettronici la rabbia della preside dice il mio ufficio è stato messo so quadro sono entrati dal parcheggio nonostante la presenza delle telecamere poi ricorderete il buco nel muro della piscina Dini Salvarai dove è venuto fuori l'amianto adesso c'è questa interrogazione da parte dei grillini che chiedono se ci sono problemi di salute intanto problemi di salute sicuramente li avrà il ladro che ha sfondato col piccone il muro d'amianto quello sicuramente ma insomma guasto e termosifoni in aula col cappotto a Elnolfi e al Torelli il lamentele dei ragazzi i presidi risolvono il problema ok andiamo sulla pagina di Pesaro per parlare del conto in Svizzera di Valentino Rossi depositate a Ginevra 24 milioni il padre del campione dice dove è la novità? già tutto chiarito il nome del codice il nome in codice era chi 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 62 era stato aperto in una banca ed era un investimento prudente il legale Achille Marchionni dice quei soldi sono rientrati dal 2008 con l'accertamento del fisco a Mondavio maltrattava sorelle congiunti un 51enne finisce in carcere il dramma familiare dura da molto maltrattava la sorella e alcuni congiunti lo aveva già fatto in passato rimediando due condanne a un anno e un mese e a otto mesi di reclusione ma non è bastato anzi questo signore Pascucci 51 anni di Mondavio ha continuato con le angherie ai danni dei propri congiunti che sono stati costretti a rivolgersi ancora una volta ai carabinieri ancora d'arresto del Carlino da Fossombrone MP decida il Consiglio di Stato il Comune non si arrenda la sentenza del Tar il vice sindaco Chiara Billi il futuro è galantuomo è dall'estate del 2013 che si consuma uno scontro tra l'azienda e la giunta di Fossombrone ancora da Fano ipotesi centrale elettrica nell'area dell'ex zuccherificio il sindaco non conferma faremo la scelta più giusta si avvicina intanto il voto sulla variante Paolo Andreani che è socio se non l'approvano cade tutto noi siamo rimasti con il cerino acceso in mano dal Corriere Adriatico nuovo look per la palla di Pomodoro e per Viale Trieste sdoganato il progetto di riqualificazione in vendita a 2 milioni e mezzo di quote di marche multiservizi in calendario ci sono interventi divisi in tre stralci il cantiere dovrebbe chiudere entro il 2017 l'area di Piazzale della Libertà diventerà un unicum con Via De Viale della Repubblica ancora non perdiamo questa occasione sulla Fano Urbino i sindacati delle ferrovie scrivono ai consiglieri regionali oggi chiamati a votare in discussione infatti c'è la mozione che chiede la revoca del decreto di dismissione della tratta intanto una pista ciclabile e un carrello a pedali è una proposta che stride con il buon senso da Fano amianto disperso dai ladri palestra chiusa forata la parete che lo contiene provvedimento precauzionale del comune analisi anche in piscina dopo la razzia all'amianto all'impianto scusate Dini Salvalai la parte natatoria è rimasta fruibile solo oggi verranno effettuati i prelievi da parte dell'ARPAM più in alto ex zuccherificio Noi Città vuole un centro sportivo la lista del sindaco propone una struttura polivalente incentrata sul nuoto con complessi ricettivi andiamo sull'altra pagina del Corriere dove si parla del carnevale museo e teatro satira al centro i due obiettivi secondo Pugliani che incoraggia carnevalesche e comune sulla via internazionale ancora dal Corriere danni all'alluvione incontro in comune danni dell'alluvione incontro in comune se riconvoca tutte le rappresentanze per esaminare la situazione mentre l'assessore Paolini racconta le tappe della lunga notte mentre invia Schiavoni il record degli interventi a Mondavio è morto l'ingegner Pierino Berardinelli elettromeccanico inventore premio Europa inventò inventò la macchina per fare gli spiedini il suo funerale si terrà domani alle 15 nella città di Mondavio ancora da Senigallia partita la raccolta dei detriti sulla spiaggia il sindaco dice il costo sarà interamente sostenuto dall'impresa che ha in appalto la gestione apriamo il messaggero in apertura in evidenza sulla pagina di Pesaro la politica progetto grande centro spacca candidato verso le regionali area popolare apre al governatore e poi a centro pagina vie intitolate ai brand i brand sono i grandi marchi le vie potrebbero essere non so via Barilla via Nutella via Ferrero ecco una cosa del genere infatti il sindaco Ricci piazza Barilla non vedo nulla di male un modo per trovare risorse lo storico dice no si perde così la memoria e così finisce per diventare tutto commerciale o tutto comunista visto che le piazze sulle vie sono quasi tutte di quella sponda lì la Fano Urbino mobilita i sindacati dopo due tentativi falliti oggi la mozione scontro la dismissione della tratta torna in consiglio comunale andiamo sulla pagina di Fano per chiudere il messaggero amianto monitoraggio dell'ARPA Maladini Salvalai verifiche precauzionali dopo le picconate della banda di ladri che hanno portato alla dispersione del materiale a centro pagina invece la mareggiata costerà più di mezzo milione di euro la cifra per ora si limita ai danni nella zona tra Sassonia e le brecce è un bilancio che è destinato a lievitare con i conteggi legati alle proprietà private e agli stabilimenti balneari devastati e queste sono le notizie più importanti sui tre quotidiani che hanno gli inserti locali di oggi io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani mattina arrivederci a domani mattina